secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora grazie è freddissimo mamma mia che caldo uuuu 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 cazzo uuuu Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! 1, 2, 3 Grazie mille! 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 11, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 13. eh cara tutta la roba, mi sento forno a 40 gradi apposta apposta poi ho fatto l'antipasta l'antipastino no? eh si poi chi so se i cambroni stanno mettendo forno, l'ultimo azz l'ho fatto bene? eh si 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 fumastia? eh secondo me, lascio un po' 20 euro oppure qualche tombolata anche da 50 da 50 solo per i sub quindi 20 euro per tutti 50 euro per i sub quindi delle tombolate enormi facciamo dopo e poi dopo stacco io devo festeggiare anche io in privato devo ubriagare buonasera maestro, grazie per il tempo che dedica a noi buone feste iiiiiii iiii 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 i video game i video game la vincita di natale chi è? iiii 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 ho sulla città iiii che fai? torto belo lo è uno quanti regali quanti regali ohhhhhh ohhhh oh come sta suona mannaggia e poi domani è natale pure se ne mangi quelli domani e basta sono troppi ormai prossimo numero categorizzato proprio per il signor Giu 72 no è a caso è random io non c'entro niente io non c'entro niente mi hanno bocottato io non c'entro niente io non so niente no no mi hanno bocottato mi hanno bocottato io non so niente buona vigilia maestro siamo chi si siede comodamente dalla parte del torto scuolo 73 oltre a bambieri scuolo 73 facciamo non sparare la ragazza di mavera non c'entro niente non c'entro niente non c'entro niente non c'entro niente 차 non c'entro niente che hai preparato? ho fatto la trittura, ho fatto il polpo, i sughetti, hai già fatto gli antipasti, hai già preparato, tante cose no Agostino no beh dopo facciamo le tombe, dai ragazzi dopo mezzanotte, chi ci sta? ciao Alex Torino allora, ho forno a temperatura allora, ho forno a temperatura